Musica Ho assistito a rivoluzioni, genocidi, povertà e anche ricchezza. Ma oggi assisterò a qualcosa di nuovo. La follia non ha mai fine e per trovarla basta saper cercare. Cerchiamo insieme, ok? Ok. Questa è quella... Non ci siamo. Ecco qualche amico con cui giocare. Se fosse qualcosa di utile, credi che te lo direi. Ma perché tutta questa fretta? Fate pure con cara. Indietro, tente! Sono un'esperta scassinatrice. La butto giù. Scopri il posto che gli appartiene. Ci sarà da divertirsi. Per me almeno. Meglio evitare che ospiti indesiderati vengano qui. Ui, forse è un oggetto chiave. Sono a secco. Mi chiamo. Mia, 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 mia. E fa un culo a tutti. Qui, ora! Servono munizioni. Non è affatto un bel modo per mettere fine alle vostre vite. Ma gli ordini sono ordini. Il destino vi riserva ben altri piani, vero? Nessuno verrà fuori da quella porta. È chiusa e imbullonata. Non è affatto un'occhiata, non è affatto un'occhiata, non è affatto un'occhiata. Allora, non è affatto un'occhiata, non è affatto un'occhiata. Incontrata la morte, non vi sarà alcun uomo. C'è mancanza, grazie. È giunta l'ora di arrendere. C'è mancanza, grazie. C'è mancanza, grazie. C'è mancanza, grazie. Passerà. Tutto passa col tempo. Quei tranelli hanno fatto sì perché siete l'ora di là. Non avete un posto dove andare? Non avete voglia di scappare. Ha servito il suo scopo, ed è anche grazia. Forza, prendete la sua tessera e proseguite. A volte è meglio contare solo sulla propria forza. Avete capito? Venito! 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 Grazie a tutti. 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 Arrendetevi. Preferirei non infliggervi la prossima sofferenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Interessante, ma alla fine del tutto inutile. Grazie a tutti. Non è affatto un bel modo per mettere fine alle vostre vite, ma gli ordini sono... è il caso di dire... non è affatto un'altra... non è affatto un'altra... cappello e... sarà un'altra... sarà una morte... questa Wesker non funziona... questa Wesker non funziona su di voi perché siate letti! grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. non è affatto un'altra...